Buonasera a tutti, benvenuti per ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Ragazzi, quest'oggi siamo qua per fare un nuovo video sul tennis. Oggi nuovo video sull'Australian Open, dodicesima giornata dell'Open d'Australia. Lo so, oggi per quanto riguarda il video pronostici analisi, il video recap di fine giornata, ci sta meno appeal, visto che siamo nell'attesa di una partita leggendaria. Da venerdì ore 4 e mezza, vietato mancare sul canale di The Man of the Sports. Il grande Walter che sicuramente sta avendo questo video. Walter, io lo so che tu mi hai detto che ho la migliore copertura, che ho avuto la migliore copertura dell'Australian Open, ma tu, Walter, mi hai commentato praticamente sotto ogni video, veramente non so come ringraziarti. Sei veramente fantastico. Andate ad iscrivervi a Walter, quest'anno io ho 1000 iscritti e lui ha 3000. Siamo chiari, questi sono gli obiettivi, almeno. Forza così. E vi stavo dicendo, oggi, dicesima giornata, oggi giornata delle semifinali femminili. Abbiamo, da una parte, la parte alta di tabellone, nella quale abbiamo una semifinale a sorpresa e dall'altra parte abbiamo una semifinale che ci aspettavamo. Tutte e due molto interessanti, anche se quella, secondo me, della parte bassa è molto più interessante, francamente, soprattutto a livello di gioco, giocano meglio le due tenniste della parte bassa. Però, io sono qua per fare il video su tutte e due. Prima però di passare al video di oggi, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Cerchiamo di arrivare a 350 iscritti entro la fine della Australian Open e a 325. Stiamo a 324, ne manca uno. Entro domani, magari abbiamo già fatto il 325, adesso non so, però sicuramente 325. Comunque, entro la partita tra Sinner e Djokovic. Altra cosa, domani, che video usciranno oltre a questo video? Avrete, scusatemi, oltre al video recap di fine giornata, domani avrete ben tre video. Avrete il video analisi della partita tra Sinner e Djokovic, che pianifico di farvi uscire domani mattina, mentre io sto a scuola, lo programmo, così riesco a far ossigenare e far respirare bene i video. Quindi stasera, verso le 11 e mezza, 11 e tre quarti, avrete questo video qua. Domani mattina avrete il video preview, dove parlerò specificamente della semifinale tra Nova Djokovic e Yannick Sinner. E poi avrete il video recap di fine giornata, verso, quando torno a tennis, quindi verso le 5 e mezza, 6. E infine, alle 10 e 11, avrete il video per le nostre analisi della tredicesima giornata dello Slam Down Under 2024, dove vi parlerò di tutte e due le semifinali Slam. Questo è il programma di domani, quindi domani triplo video. Venerdì, triplo video più live sul canale di Vatt, quindi non sul mio canale, ma comunque sia io ci sarò, dalle ore 4 e mezza, vi vietato a mancare per sopportare il nostro viagno. Non dilunghiamoci fin troppo in chiacchiere, iscrivetevi al canale, condividete il video, ragazzi, mi raccomando, se voi condividete il video, se voi condividete il video, voi fan fedeli che commentate, a vostri amici, a vostri parenti, a vostri cari, ditegli iscriviti al canale, dite anche solo di iscriversi, la campanella, se non la vogliono accendere, se non la vogliono attivare, scusatemi, perché non vogliono seguire il mio canale, va bene, ma se si iscrivono, non lo fa morale, come si dice in gergo, quindi sicuramente non è mai scomodo. Adesso partiamo con le partite dopo 4 ore, 4 minuti di chiacchiere, scusate. Ragazzi, eccoci qua per parlare della dodicesima giornata, vorrei anche parlare, oltre alle semifinali maschili, mi sembra corretto parlare di Bolelli e Vavassori. Semifinale anche per loro, al doppio dell'Open Australia, credo che sia la prima semifinale slam sull'Open Australia, di un italiano da 9 anni, che sono il 2024-2023, da quella tra Fonini e Bolelli, non mi ricordo chi altro onestamente, in quell'anno, 9 anni fa, Fonini e Bolelli vinso allo stranello per l'Open in doppio. Forza, Bolelli e Vavassori, partita interessante, Anfman è anche un singolarista, Kopfer pure, non mi ricordo, per quella partita a Parigi con Roger. Insomma, forza Bolelli e Vavassori, non volevo solo dire e spendere qualche parolina su questo incontro, non mi sento di fare giudizi, perché di doppio ci capisco veramente poco, quindi non mi sembrerebbe corretto, però forza Simo e forza Andrea, forza, 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 ragazzi, fare doppietta slam a livello maschile sarebbe un sogno, sarebbe un sogno letteralmente, sarebbe un sogno pazzesco, accadrà? Mi auguro di sì, vediamo se accadrà, veramente me lo auguro con tutto il cuore. Ci saranno anche le altre semifinali di doppio, ma Shaq e Zhang contro Bopan, e Bopan e Edben, ragazzi, Bopan è che diventerà il numero del mondo più anziano della storia in doppio, 43 anni. Complimenti al tennista, meritatissimo, veramente pazzesco, però questo ci fa capire quanto il doppio sia veramente poco, se lo finino veramente poco, anche quelli che ispirano ad essere professionisti, perché ragazzi, questi doppi non ci stanno ai grandi generi nazionali, c'è domina ancora uno che ne ha 43 di primavera, e anche un altro che ne ha 40, Ram, insomma, io ho visto delle partite di doppio alle finals, giusto così per vederle, e il più giovane c'aveva 31 anni, sono paramatti. Passiamo adesso alle partite che ci interessano, Allora, lo so che non sono in ordine cronologico questa volta, come vi dirò le partite, però io prima partita della partita è secondo me meno interessante, Jastremska contro Zeng, ragazzi, semifinale è completamente inaspettata, qua all'ora di testa di sei dovevano esserci Shbiontek e Rybakena, io pensavo che Shbiontek, che scusatemi, che Rybakena non ci sarebbe arrivata, ma mi immaginavo che ci arrivasse Shbiontek, mi sono sbagliato, pensavo anche che ci arrivasse Kazatkina, però non è così, non è stato, alla fine abbiamo Jastremska Zeng, Jastremska è riuscita in un'impresa, che è riuscita solo una donna nella storia, cioè Emma Raducanu, quella di raggiungere una semifinale, in un torno del grande slam, senza, scusatemi, passando dalle qualificazioni, una semifinale a livello slam, una semifinale, sì, è la seconda donna della storia, dopo Raducanu nel 2021, quindi tre anni fa, quando iniziò per gli esterniti, a raggiungere la semifinale, in un torno del grande slam, partendo dalle qualificazioni, io direi una cosa pazzesca, cosa che nei maschili non può succedere, o comunque sia, è estremamente più improbabile che succeda, che accada, io non mi immagino come un cobolli, come uno di questi qua ragazzi, possa vincere, possa fare semifinale, o addirittura vincere, come in caso di Raducanu uno slam, è follia, anche solo immaginarci ciò, però è femminile, si sa che cose folli accadono. Semifinale tra due underdog, tra due tennisti che non ci aspettavamo insieme, ma che sicuramente, qualsiasi delle due vinca, non ci aspettiamo in finale. Secondo me parte favorita Zeng, Zeng ha dato una grande prova di forza, ieri contro Kaliskaya, oggi contro Kaliskaya, scusatemi, onestamente, si vede favorita Zeng, ma non sarei sorpreso, quello che vincesse gli astrams, che sta esprimendo un tennis, maestoso. Io vi dico che vincere a Zeng in tre, ma attenzione, tranquillamente, ha un upset della tennista ucraina, non sarei sorpreso, lo ripeto, non sarei così sorpreso, quello che dovesse accadere, però sicuramente parte favorita, la tennista cinese. Poi, seconda semifinale, non a livello cronologico, perché in realtà si giocherà questa qua, tutte e due partite sulla sessione notturna, non preoccupatevi che il maschile non sarà sessione notturna, ma, da quanto ho capito, allora Zverev e Sinner, su Adonijokovic e Sinner, sarà dalle 4 e mezza, dovrebbe essere, e poi dovremmo avere Zverev e Miedvedev, Miedvedev e Zverev, sono tutti due orari prestabiliti, oggi l'ha detto Zverev, che dovrebbero giocare alle 7 e 30, 7 e 30 riferito come orari, oddio, 7 e 30 saranno orari australiani, orari dell'Europa occidentale, perché lui è tedesco, quindi potrebbe essere che si riferisca anche gli orari dell'Europa occidentale. Vabbè, a prescindere, io credo che sia così, 4 a 30 inizia, e poi alle 7 e mezza, o alle 7 e mezza, o comunque si è a seguire, il discorso è che ci sarà, prima la semifinale, almeno secondo me, e credo, qualcuno di voi nei commenti ha potizzato che non sarà così, ma io credo francamente che sarà così, poi magari alla fine vediamo che avrà ragione domani, domani comunque ne andremo a parlare. Io credo che però, saranno a scendere in campo, prima, Sinner e Djokovic, che hanno avuto più recupero, più tempo di riposo, e poi a seguire, Miede e Dezver, che hanno avuto meno tempo di riposo. se voi vi direte, ma cosa cambia? Non possono fare le interesse cambiabili tanto, nel senso, si affrontano un tenista che ha recuperato un giorno e mezzo, un tenista che ha recuperato un giorno e mezzo, contro un tenista che ha recuperato due giorni e mezzo, e un altro che ha recuperato due giorni e mezzo, quindi che una sia prima, e che una sia l'altra, non ha importanza. Sì, ma credo che sia già prestabilito così, nel senso, pure tutti gli anni passati era così, io non credo che quest'anno cambieranno così, d'amblè. Poi vediamo, magari mi sbaglio, magari avrà ragione qualcuno di voi, vedremo alla fine come sarà la cosa, sta di fatto che a prescindere dall'orario, io e Valtteri venerdì ci siamo in live, può essere alle 2, può essere all'una, può essere alle 6, può essere alle 8, qualsiasi orario, i dirigenti dell'OpenNostra la ci mettano, a noi non ce ne frega niente, il live sul credit menu de sports è vietato mancare, assolutamente. In tutto ciò, per evitare di dilungarci, di chiudere questo video il prima possibile, parliamo di Goff e Sabalenka, questa è la finale anticipata, io credo che qualsiasi delle due teniste sarà in grado di, qualsiasi dei due teniste che vincerà questa partita, io credo che vincerà anche il toglie il titolo, perché onestamente non vedo come né Zeng né gli Astrams che possano battere una di queste due, è un peccato che questa non sia la finale, è un vero peccato che questa non sia la finale, perché questa meritava assolutamente di essere la finale. Partita molto interessante, Goff ha vinto l'ultimo sconto diretto, però sta giocando meglio Sabalenka in questa strada open, nella strada open gioca meglio Sabalenka perché ha vinto l'anno scorso e adesso sta dominando e ha perso 10 game, una roba del genere, o anche meno, 11 game, non credo che abbiamo perso esattamente 11 game. Però ragazzi, Goff, allora, Sabalenka è una che tira molto forte, ma se riesce a trovare una giocatrice strategica come Shbiontech, come Ribachina, hanno dimostrato di poterla abbattere, quindi Goff deve provare a fare quello che ha fatto all'open degli Stati Uniti, magari cerca di inventare nel match un po' prima. Prevedo 3 set, prevedo fuochi d'artificio, ma prevedo una vittoria di Arena Sabalenka, alla fine secondo me trionferà, non c'è più a parlare, la Bielorossa in 3 parziali, in 3 parziali tirati, ma 3 parziali secondo me in cui alla fine vincere la tennista Bielorossa. Vediamo se aveva ragione, onestamente pure Goff potrebbe vincere, ripeto non è un 50 e 50 perché sono a me leggermente favorita Sabalenka, però è una partita molto equilibrata ed è una partita nella quale qualsiasi esito, tanto sono due gli esiti possibili, ma in qualsiasi numero di parziali, quindi 2 set Goff, 2 set 3 set Goff o 2 set Sabalenka o 3 set Sabalenka nessuno di questi 4 risultati mi stupirebbe. Io vi dico però Sabalenka in 3. Poi la finale potenzialmente sarebbe Zeng Sabalenka, ma io vi ripeto qualora dovesse essere Zeng Sabalenka, qualora dovesse essere Zeng Goff o qualora dovesse essere Yastremska Sabalenka o Yastremska Goff, io credo che la semifinalista, la vincente della semifinale della parte passa di tabellone sarà anche la vincente del torneo. Non vedo come la vincente della parte alta del tabellone femminile possa ostruire e possa estromettere diciamo questo termine che è più adatto dal torneo la tenista della parte bassa del tabellone. Vediamo, vediamo se ho ragione oppure se i fatti si rivolgeranno contro di me. Lo scopriremo solo vivendo come si dice non so a chi vi ha detto questa frase però io la utilizzo moltissimo. Grazie a tutti per la visione iscrivetevi al canale a 350 iscritti entro la fine dello stranopo in questo obiettivo. Grazie a tutti del supporto ve ne sono grato ci si vede domani con i tre video ci si vede domani mattina le 11 sono un mio orario perfetto per il video preview della semifinale tra Djokovic e Sin vi è dato mancare domani e venerdì ciao